Ehi tu, ciao, vuoi giochi scontentissimi? Bene, ho un sito dato per te, vai su www.g2a.com e avrai giochi scontentissimi intelligente e vedrò che inizierà vediamo attaccante ancora uscito benzena o che culo però è fortunato vabbè vediamo l'altro attaccante 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 oh boh finiti immobile ha ancora il culo perfetto e senza sinistri ce l'ho pochi bene ah quella è l'unico allora che ho preso regentone bene bene che merda ce ne ho tanti via all'ultimo c'è uno ce n'è questo che peso ma che merda dai ok ok stai cercando c'è la città centrale è vero ci sono solo due che ho preso oh tu levi dal oh che culo senza farla accosta essendo destro a caso a caso a caso che ho preso vabbè una merda però vabbè dai fantasità terzini sinistri ce l'ho pochi bene ti prego dammi con loro con loro con loro quello che prende no la bronzone no cominciamo alla difesa qua via quante difese c'è 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 armariglia questo ah no un po' un calcio di intensità ma che merda ti prego dammi un c'è un'informa che posso prendere che vi dici poi anche è facile una bidale di merda ma dai terzino destro eh un if e poi un'altra merda è bene ti prego oh che culo a meno lui a meno un if a meno un if che culo portiere c'è no migliaia solo merda anche ah altre pagine ah due pagine eh non lo so non lo so che tanti portiere non mi dico è per lui eh manglet va bene le riserve fanno merda quindi faccio più dire bronzo ma qualità bronzo purtroppo è così tutta la merda è bronzo quindi devo usare soltanto questa squadra io io santo io santo io santo io santo questa è la mia squadra adesso devo curare benzemà e poi cominciamo la partita ehm busto vediamo se c'è busto qua che culo che ho ce l'ho ben due ho 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 fanno fisica è fresco gli altri sono messi molto meglio immobile un po' di meno quindi anche immobile forma fisica e questa è la mia squadra a caso speriamo di vincere almeno una partita abbiamo tutta l'avversaria e come sempre è più forte della mia però l'identità è uguale alla mia cioè l'esport ha giocato la dinanticità ma è valore non penso proprio però vabbè dai c'è un caso di agguero mi farò un culo io ho un bel marco spero che fa un gol visto che prima non mi giocare ma ho vinto che io ho messo Pogba a posto di un cazzo c'è un senso di merda che non so perché c'è ancora in questa rosa di merda ma mamma mia che schifo dai e Pogba Pogba che cosa ho fatto Pogba ha fatto niente vabbè fallo che cosa mi lo so non posso dire ah ce l'avevo perdere domani avevi perdere ah ce l'avevi perdere no ce l'ho capito a passare ho fatto a caso e quello che mi sono uscito che c'era un bambino un santo è stato casuale ragazzi mi mostro mai forte perderemo gol eeeeh che vim pendeva 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 lui che vim pendeva guarda qui bam pigliemela hanno aperto le marcature con questo gol goal Pogba direttore di gara non interviene qui vai 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 mamma mia Benzema gol Arturo Benzema ragazzi è il gesto che mi chiede di più e questo lui mi chiede di più e questo mi chiede sempre questo mi chiede sempre questo chiede ragazzi non mi rompete le balle che favore e lo dico a te che tu mi conosci e non dico noi perchè mi conosci e gli altri sono che vado sono che vado a sparare cazzate che cazzo me ne sei mi chiede ragazzi ferma ma non controlla immobile uuuh uuuh immobile ciro immobile ciro immobile ciro immobile uuuuh cambia soltanza ciro immobile go in ciro immobile perfetto perfetto è a zero allora loro partita mamma mia ragazzi partita a caso eh proprio dire a caso a caso Vidal Arturo Vidal Arturo Vidal Arturo Vidal Arturo Vidal Arturo Vidal Bezema mamma mia me ne parla tutti le quali cioè guardate tan palata tan palata tan palata e poi blu guardate la fine vai il tiro il tiro il tiro ma gol mamma mia verigna di testa verigna oh mio dio verigna anche lui di testa c'è viva 4 a 0 4 a 0 4 a 0 partita partita a caso partita a caso e sta vincendo e gli lega il gol oggi con lui in porto non si passa errore è laboroso occhio alla botta no la parata grande vai Benzema Kerim Benzema Kerim Benzema Kerim Benzema Kerim Benzema Benzema Kerim Kerim la parata stavolta la parata brava il portiere facciamo per Pogba vedete Pogba cosa fa immobile c'è gol Ciro immobile c'è ragazzi non ci credo ancora se condividi cosa sono a caso faccio tutti i settimi gol o è scartissimo e deve stare legare tutti i gol tutti i colori ma 5-0 in 45 minuti ragazzi è una malamati cioè ragazzi quasi devi fittare mi sa perché in 45 minuti ne ho fatto 5 occhio all'intervento del direttore di gara c'è veramente ragazzi mi sto massacrando lo sto massacrando ragazzi lo sto massacrando lo sto massacrando lo sto massacrando ragazzi c'è veramente anche se lo ripeto ma lo sto massacrando lo sto massacrando veramente però non so se ho messo il microfono ho dei dubbi dopo ho dei dubbi con la qualità del microfono mi sa ho dei dubbi ho dei dubbi effettivamente hanno dominato questo primo tempo su tutti i fronti soltanto un miracolo potrebbe riportare in corso i loro cassari Vidal Vidal Arturo Vidal Arturo Vidal Arturo Arturo ma che cazzo hai fatto Arturo Arturo ma cosa mi hai fatto sbagliare la prima parata che effettua vai vai Benzema 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 Bo ragazzi qua chiudo così Benzema fa il gole 7 Bo perfetto yeah Casilia non prendetelo pure ho scherzato Casilia se le cose sei se le cose sei ho un compagno c'ha mi ammazzate c'è il movimento senza balla Arturo Vidal Arturo Vidal Arturo è un po' così io non pensavo di fare tanti gol tanti gol così guarda la seconda partita niente da fare per i pochiè però non pensavo così tanti gol invece ci credo guarda qui ragazzi guardalo qui guardalo qui questo nero del cavolo che corre vai 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 che cosa è muco b è muco b è muco b è muco b 8 a 0 8 a 0 oh mio dio minimo quello che ho vittuto prima se non l'ho sentito a Mendel dai dai Pogba 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 vai il Pogbone Pogba 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 pure lui Pogba 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 ci penso anche lui 9 a 0 ragazzi 9 a 0 ormai una visionaria molto precisa lo so dici ma si dai basta frate no 6 miliardi se faccio 10 0 ragazzi voglio minimo 25 voglio minimo 15 laico 20 veramente se faccio 10 0 c'è veramente ragazzi io non mi fate bene voi a voi ragazzi 10 goals mai quindi se riesco non c'è tanto vediamo se riesco con Kerim Benzema Kerim vaffanculo tu ammazzi rosso abito bravo abito l'arbitro l'arbitro non poteva fare a il proprio luigi ultimo difensore chiaro occasione la gol l'intervento è scivolata ma prende nettamente le gambe dell'avversario non il pallone l'arbitro non poteva fare meno di sanzionarlo per questo intervento duro Arturo 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 Vidal l'arbitro 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 avrà di questa stagione 10 gol in una partita ce l'ho fatta il prezzo davvero un gran bel gol con Varigna ce l'ho fatta gli serebi diventa realtà mamma mia ragazzi 10 gol in una partita sola senza subire un gol ce l'ho fatta ma fa anche l'undici che era un record mondiale milano rosa no c'è pressione su di lui c'è la parola caldo è finita 10 a 0 ragazzi voglio 15 o 20 like perchè ho fatto una cosa che mi sui youtube youtube gamer ha fatto una partita e sto giocando ragazzi online, non offline quindi 10, 15 o 20 like in questo stupendo video quando dicevi che è il 5 al prossimo video bye ragazzi ciao 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 ciao